il video di oggi siamo in compagnia di canon e del 200 800 il nuovo supertele di canon con attacco rf siamo qui all'interno di un osi naturale e cercheremo di fare un po di foto agli animali per vedere come si comporta questa bestione montata sulla mia canon r6 andiamo grazie a tutti ragazzi per proseguire e continuare la recessione del 200 800 scusate il rumore ma siamo venuti qui a una pista di motocross per testare veramente a pieno questo obiettivo e soprattutto per mettere sotto stress vero l'autofocus della lente abbinata la r6 del r6 già la conosciamo ma vediamo la lente quanto è veloce a prendere fuoco a 800 mm in uno sport come la motocross dove ti trovi la moto che salta fuori dall'ostacolo all'improvviso e non la vedi a e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ed eccoci tornati in studio per tirare un po' le conclusioni di questo bestione di Canon. Allora partiamo un po' dalla costruzione. Come potete vedere comunque per essere un 800 mm è veramente compatto. Pesa solamente 2 kg che vi assicuro è veramente poco per una lente del genere e sono riusciti a renderlo così piccolo e compatto appunto per via dell'escursione esterna. Come vedete quasi raddoppia la sua lunghezza. Sempre stando sul corpo troviamo qua il selettore per l'autofocus o il manual focus dove non ha una ghiera dedicata al fuoco ma dovremo settare questa ghiera per fargli fare quello che vogliamo dal corpo macchina. Ma se lo lasciamo in autofocus possiamo settarla per altre funzioni ad esempio per il cambio del traffic o scatto singolo, il cambio del tipo di fuoco o sovra sottoesposizione. Io l'ho trovato comodo. E l'altro selettore è per attivare o disattivare lo stabilizzatore di cui vi parleremo meglio dopo. Sempre in termini di costruzione troviamo questi altri due pulsanti configurabili, li abbiamo impostati per attivare il pre-AF, molto comodo quando tieni la lente così ce l'hai comoda per non bilanciare il peso. E finiscono un po' qua i selettori. Quindi un pochino pochi selettori, non c'è il blocco del fuoco minimo e non c'è il tipo di stabilizzatore che può usare. Come il ghiere però ha questa ghiera qua che permette di rendere più morbido o più duro l'escursione di questa lente. Allora comodo, carino che ci sia, sinceramente io l'ho sempre usato tutto morbido perché è già una lente pesante, usare la mano libera, dover anche mettere forza e fatica per girarlo non vedo l'utilità. Mi sono trovato bene averlo sempre morbido per essere veloce a zoomare e de-zoommare. Il paraluce invece è parecchio ingombrante, si può chiaramente montare al contrario per ridurre lo spazio, è parecchio grosso, non presenta degli sportellini per poter andare a interagire sui filtri da 95 mm che monta. Nel caso usiamo ad esempio un polarizzatore, un ND, non ci permette di riuscire a girarlo come abbiamo visto su altre lenti che abbiamo recensito sul canale ma dobbiamo un po' macchinarci così. Però poco male, chi usa questo tipo di lenti raramente usa filtri, specie un ND, visto che comunque già è un pochino buio come lente, nel senso che è un f6.3 a 200 mm e un f9 a 800 mm. Come vedete dalle scritte che vi sto mettendo in sovrapposizione non ha subito una caduta, è abbastanza graduale e tiene gli f8 fino a 630 mm, quindi se abbiamo bisogno comunque di un pochino più di luce possiamo fermarci a 633 mm che già sono tantissimi e lunghissimi come lente e guadagnare quello stop di luce. Una cosa molto interessante però di questa lente così grossa è la distanza minima di messa a fuoco, ovvero a 200 mm permette di mettere a fuoco a 0,80 metri, che è niente. Ho visto dei 35 fissi che mettono a fuoco a 0,80, è veramente un valore incredibile, mentre a 800 il fuoco minimo è 3,3 metri per essere precisi, però ci sta a 800, quindi va benissimo. Sempre parlando della costruzione, la staffa mi ha un po' deluso, nel senso che ok può ruotare ma non ha quelli scattini che fa clac clac per far sapere se è in posizione. Troviamo giusto qua delle tacchettine da far coincidere ma non c'ha un fermo, una frizione. È una staffa molto basic, non è arca Swiss, non ha possibilità di sgancio rapido, non può essere rimossa, ha solamente sotto la filettatura classica o un po' più grande. Ha qua queste asole per far passare un'eventuale cinghietta per appenderlo, però appunto la staffa secondo me è un po' il neo di questo obiettivo che finora, come abbiamo visto, ottimamente mi sono trovato veramente bene. La staffa si poteva fare qualcosina in più, secondo me. Un'altra cosa incredibile di questa lente è che è anche duplicabile, può gestire i duplicatori sia il 1.4 che il 2x e immaginiamo appunto di averlo a 800 mm con un 2x su un corpo APS-C, otteniamo un 2560 mm. Chiaramente un F è molto buio, ma insomma se qualcuno interessa fare, che ne so, astrologia, può già essere una focale interessante. Passiamo alla qualità d'immagine. Allora, per la fascia di prezzo che ha e l'escursione che ha questa lente, appunto da 200-800 è veramente ampia, quindi tantissimi elementi in movimento, zoomata esterna, la qualità d'immagine è molto buona. L'incisione è decisa, mi piace molto, nonostante l'abbiamo usato su un sensore da 20 megapixel, quindi neanche super nitido. Sarei curioso di vederla su un sensore che la stressa un po' di più se risolve abbastanza, ma sull'R6 è andata alla grande. I colori sono belli, solita pasta Canon, molto molto calda, molto rotonda, che a me piace. La qualità d'immagine, mi è parso di vedere, è molto simile sia a 200 che a 800, non ho grosse cadute. L'autofocus è velocissimo, è veramente fulmino in ogni situazione. Non ho mai avuto problemi, ho fatto la selezione del trekking del soggetto, selezionando animali, come abbiamo usato animali, o persone, o automotive. Veramente fulminio. Appunto, nel motocross mi trovavo davanti a questa collina, andava a fuoco la collina o dietro le piante, non avevo idea di quando e dove sarebbe saltata fuori la moto e sempre lo agganciava con una velocità incredibile, eppure mentre la moto arrivava verso di noi a velocità sostenute, il fuoco seguiva e anticipava correttamente tutta la raffica da 20 frame al secondo, che ha permesso l'R6. Anche in condizioni di rugby, dove agganciava l'occhio del soggetto che correva, riusciva sempre a seguirlo molto velocemente. Quindi dal punto di vista dell'autofocus, promossa a pieni voti, niente da dire sull'autofocus. Allora, Canon ci dice che stabilizza circa 5,5 stop, poi chiaramente anche l'R6 ha il sensore stabilizzato, l'accoppiata è sorprendente. In questo video che vi faccio vedere, all'inizio è non stabilizzato, e poi attivo lo stabilizzatore, e vedete voi la differenza che fa. Nonostante sia una lente pesante, impegnativa, da tenere in mano tutto il giorno, comunque non ho mai sentito l'esigenza di dover avere il monopod o il cavalletto per avere immagini più nitide, perché lo stabilizzatore ha sempre lavorato benissimo. Mi sarebbe piaciuto averlo soltanto per riposare un po' le braccia. Quindi anche lo stabilizzatore, promosso a pienissimi voti, come l'autofocus, silenziosissimo, non si sente mai, non dà mai incertezze, lavora molto bene. E anche in termini di consumo della batteria, altra nota importante, se non la far presente, si è comportato benissimo. Nel senso che tutte le riprese che vedete, tutte le foto che abbiamo fatto nelle varie situazioni, sono state fatte tutte quante con una sola batteria. Quindi comunque una lente così grossa, così impegnativa, con così tanti vetri da spostare, comunque riesce ad avere un consumo della batteria molto molto contenuto. Voglio portarvi anche il mio 7200 f2.8 di fianco per vedere le dimensioni a confronto, quindi alla fine per essere 800 millilitri, quindi va al quadrupo di questo, non è nemmeno così tanto più grande e ingombrante. Ma andiamo anche a confrontare un po' queste due lenti, un serie L di un po' di anni fa contro un non serie L moderno. Come possiamo vedere, al centro, usando la tutta apertura, il nuovo RF risulta più nitido, nonostante appunto non è un serie L, guardate come incide decisamente di più. La situazione ovviamente cambia, andando a chiudere allo stesso valore il 7200 f2.8 messo a f6.3, che però ricordo è comunque tutta apertura dell'RF, la situazione quasi si equivale, diventano un ITD più o meno uguale. Questo ci dimostra il lavoro incredibile che ha fatto sul mantenimento della qualità, il 200-800, anche a tutta apertura. Chiaramente andando a chiudere entrambe le lenti di un paio di stop, ai bordi invece la situazione un po' cambia, con il 70-200 che rimane comunque vincitore, con uniformità e la nitidezza dal centro ai bordi uguale, e anche un pochino meno di aberrazione cromatica, come potete vedere intorno alle letterine 3 e 4 ai bordi, c'è un po' di azzurrino, cosa assente sul 70-200. Quindi, in conclusione, se cercate un obiettivo per fare sport, avifauna, comunque un buon tuttofare, secondo me questa è una lente veramente interessante, e è un serielle mancato, nel senso che ha tutte le carte in regola secondo me per essere un serielle. La colorazione bianca, la stabilizzatore, l'autofocus, buona qualità di immagini, veramente ha tutte le carte in regola per essere un serielle a mio avviso. Non è neanche così grosso, e in un viaggio fotografico in un Safari, con un prezzo tutto sommato contenuto, perché parliamo di poco più di 2500€ su una lente di questo range, secondo me è veramente un best buy. Quindi lo consigliamo a tutti gli utenti Canon, chiaramente RF, che cercano una focale così spinta ed è veramente interessante. A mio avviso anche più versatile e utile di un 1500€, chiaramente quello rimane un po' più piccolino e un po' più leggero, ma costa di più pure. Questo qui, il range che ci permette, è veramente tanta tanta roba. Grazie a tutti per essere rimasti fino a questo punto del video, ringraziamo tutti per seguire Focus, continuate a seguirci per avere tante altre novità e prodotti in test. E vi ricordiamo, se il video vi è piaciuto, di lasciare un like e iscrivervi al canale. È un gesto che a voi non costa nulla, ma a noi aiuta veramente tanto, soprattutto ora dopo il rebranding, ci aiuta a farci sapere quanto ci volete bene e ci seguite. Grazie, un saluto da Focus. Grazie a tutti.